L'operazione, come ho detto, si è consistita nell'esecuzione di tre misure cautelarie messe dal GIP di Campobasso su richiesta della Procura, due arresti domiciliari e una misura di divieto di dimora nei confronti di un foggiano nel Molise. Nell'ambito dell'operazione sono state effettuate sei perquisizioni domiciliari e personali, in seguito alla quale è stato arrestato in fragranza di reato un quarto soggetto perché trovato in possesso di ingente quantità di sostanza superfacente del tipo marijuana.